Storia, arte, cultura, gastronomia, tutti gli appuntamenti di Weekend da Scoprire. Venerdì 11 ottobre ad Aquino dalle 15.30 presso l'oratorio festa d'inizio anno catechistico, giochi e tante sorprese. Sabato 12 ottobre a Cassino alle 21 presso l'Aula Pacis si terrà lo spettacolo L'amore che vince, poesia, musica e danza per uno spettacolo che ha come tema portante l'amore. A Strangola Galli sabato e domenica presso Via Roma appuntamento con la 22esima edizione della Sagra della Stesa. A Ceprano appuntamento con il Palio delle Corti, sabato percorso enno gastronomico e selezioni, domenica rievocazione storica medievale e finali. A Bellegra sabato e domenica nel Centro Storico secondo appuntamento con la 13esima edizione della Sagra delle Tacchie ai funghi porcini. Degustazioni, stand gastronomici, mercatino di artigianato e prodotti tipici, spettacoli musicali, aree a giochi per bambini con animazione, visite guidate ed escursioni. A Castrocello sabato e domenica dalle 9 presso l'area archeologica di Aquinum appuntamento con le giornate FAI d'autunno, con apertura al pubblico e visite guidate gratuite al sito archeologico, al museo civico e ad altri monumenti della città. Sabato 13 ottobre appiccinisco dalle 9 appuntamento con il Festival della Pastorizia, edizione invernale. Mostre mercato, visita guidata nelle aziende locali, attività per bambini, intrattenimento musicale. A POFI, dalle 10.30, in Piazza Vittorio Emanuele, appuntamento con la quarta edizione della Sagra della Patata, percorso gastronomico, convegni, laboratori, storia, musica popolare ed artigianato. Per inviare le vostre segnalazioni, chiamate al numero 0776 72 8035, oppure scriveteci a weekendchiocciolateleuniverso.it Per inviare le vostre segnalazioni, chiamate al numero 077.it